5 giugno 1841, Giovanni Melchiorre Bosco, meglio noto come Don Bosco, viene ordinato sacerdote dall'arcivescovo di Torino Monsignor Franzoni. Nell'autunno dello stesso anno, Don Bosco inizia nell'oratorio di Torino la sua opera di educatore, diretta soprattutto ad assistere i figli degli immigrati meridionali, arrivati al nord per cercare lavoro. È stato Don Bosco a fondare gli ordini dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice. Muore il 31 gennaio del 1888. Il primo aprile del 1934, giorno di Pasqua, Don Bosco viene proclamato santo.